Come si svolge in questi giorni? Con i suoi borghi, basta che ci giriamo intorno e vediamo di cosa stiamo parlando, ma ce ne sono tanti altri naturalmente con le sue attività, però anche con i suoi enormi problemi. Il terremoto, diciamo, naturalmente ha accentuato questi problemi, ma i problemi nascevano da prima. E' quindi questa per noi l'occasione per chiedere all'intero paese, non solo noi che ci abitiamo, ma all'intero paese di porsi il problema di quale destino pensa debba avere l'Appennino. Che è un pezzo di patrimonio essenziale, che può avere un grande valore non solo ai fini turistici, ma anche ai fini di preservare l'identità complessiva dell'Italia, che è la cosa più bella e insestitutibile che noi abbiamo.